buon pomeriggio anzi buona serata ormai qua dalla piscina di arenzano che si trova sopra un un promontorio a picco sul mare come puoi vedere un luogo abbastanza idilliaco e tranquillo la fondo tra i pini maritti mi posso inquadrare la parte più occidentale della più orientale scusami della costa d'arenzano verso genova ed ecco qua guarda un po che bel panorama che ti sto mandando ci sono le cassette del quartiere qua sul monte d'arenzano per il momento è tutto sono quasi le 19 precisamente 18 e 40 ti auguro una buona serata